Noi siamo convinti di essere pronti, se no non saremmo andati in ritiro dal primo luglio e non avremmo lavorato per farci trovare pronti il 30. Che i confronti di Europa League si giochino sui 180 minuti è da quando esiste questa competizione. Quindi noi rispettiamo moltissimo il Voivodina, sappiamo, li conosciamo, li abbiamo studiati, li abbiamo visti così come loro hanno visto noi e come loro conoscono noi, ma abbiamo la massima convinzione di giocare una grande partita liberi di mente, senza assilli e con grande serenità. Primo io sono molto felice e onorato di iniziare questa mia avventura europea in una nazione dove ho avuto la fortuna di allenare una grande squadra e di conoscere della gente meravigliosa, perché un anno a Belgrado per me è stato non solo una scuola importante da allenatore ma anche una scuola di vita, perché ho ancora tantissimi amici e ho passato un anno meraviglioso. In più questa doppia sfida ci lega doppiamente alla persona di Vujedin Boskov, che a Genova è nella storia e a Novi Sad è la storia, quindi è doppiamente legato. Ogni allenatore credo che abbia preso Vujedin come punto di riferimento, perché Vujedin ha fatto qualcosa di meraviglioso nel calcio, non ultimo portare la Sampdoria a vincere il campionato, che non è poco. Quindi tutto questo mix di emozioni fanno sì che questo sorteggio secondo me è stato pilotato dal destino. Noi abbiamo studiato loro come loro hanno studiato noi, perché oggi uno dei vantaggi di allenare oggi del 2015 è quello che non ci sono segreti, basta andare su Vujedin Scout e vedere tutto quello che vuoi. Quindi loro hanno visto la nostra amichevole col Trapen, hanno visto la nostra amichevole col Calloni, hanno visto tramite la televisione le altre cose, quindi non ci sono segreti. La differenza secondo me sta nel fatto che loro verranno qui per giocare un determinato tipo di partita, a mio avviso cambieranno qualcosa, perché ci hanno studiato. Io normalmente studio gli avversari, perché da allenatore con il mio staff ho la necessità di conoscere tutti, ma voglio che i miei giocatori pensino a se stessi e si esprimano al meglio delle loro possibilità con la mente libera, perché solo così si può ottenere una grande prestazione. Io ho allenato tante squadre nell'est europeo, la Stella Rossa, la Steaua di Bucharest, il Fece Nazionale, la Dinamo, la Zervena Svesda per me è stata chiaramente la più importante insieme alla Steaua. Dico questo perché noi con la Zervena Svesda abbiamo perso solo due partite in campionato, una esattamente a Novi Sad, uno a zero, e me la ricordo perché arrivavamo da una partita di Coppa UEFA di Europa League giocata a Troms in Norvegia, avevamo giocato il giovedì sera e abbiamo giocato la domenica pomeriggio a Novi Sad. E mi ero molto arrabbiato perché non mi avevano dato il posticipo. Poi la partita di ritorno me la ricordo bene perché è stata la festa dello Scudetto, ma la cosa che volevo sottolineare è che allenando le squadre dell'est europeo e soprattutto in Serbia e in Romania so qual è il valore per loro di queste partite a livello internazionale. Conosco la mentalità dei dirigenti, conosco la voglia dei giocatori di mettersi in mostra e questo molte volte va oltre il reale valore qualitativo di una squadra. È normale che io penso positivo, è normale che io ho inculcato nei miei giocatori una mentalità che è importantissima, che è quella che la palla non è mai fuori e la partita non è mai finita. Quindi noi sappiamo benissimo cosa dobbiamo fare per fare una prestazione ai livelli della Sampdoria.